ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare quercia marina simul natur simul di dossier riccardo e compagni snc ultimo aggiornamento primo marzo 2022 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso descrizione e caratteristiche avvertenze ingredienti a cosa serve quercia marina simul è un integratore appartenente alla categoria degli integratori per il controllo del peso e dell'adipe è commercializzato in italia dall'azienda natur simul di dossier riccardo e compagni snc informazioni commerciali titolare natur simul di dossier riccardo e compagni snc concessionario natur simul di dossier riccardo e compagni snc categoria di appartenenza integratori per il controllo del peso e dell'adipe forma farmaceutica gocce confezioni quercia marina simul gocce 200 ml indicazioni il fucus favorisce l'equilibrio del peso corporeo può essere pertanto un utile coadjuvante di diete ipocaloriche finalizzate al controllo del peso modalità d'uso 1 2 cucchiaini diluiti in acqua prima dei pasti descrizione e caratteristiche lungo le coste dei mari dell'atlantico e del pacifico attaccata ai litorali rocciosi si trova un particolare tipo di alga chiamata volgarmente quercia marina fucus alga bruna in europa è presente sia presso le coste del mare del nord che presso il mar baltico occidentale la raccolta viene effettuata tramite reti astrashico i paesi maggior produttori sono la francia l'irlanda e gli usa il suo tallo viene utilizzato per favorire l'equilibrio del peso corporeo per stimolare il metabolismo dei lipidi per favorire la funzionalità articolare e per la sua azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente alc 20 per cento vol idrato 200 ml anidro 40 ml avvertenze non superare la massima dose giornaliera consigliata tenere fuori della portata dei bambini al di sotto dei tre anni il prodotto non sostituisce una dieta variata deve essere impiegato nell'ambito di una dieta ipocalorica adeguata seguendo uno stile di vita sano con un buon livello di attività fisica se la dieta viene eseguita per periodi prolungati superiori alle tre settimane si consiglia di sentire il parere del medico ingredienti ingredienti per dose massima giornaliera pari a 6 cucchiaini 16,2 g acqua alcol etilico quercia marina fucus vesiculoso selle tallo 416 mg 4,1 per cento betulla betula pendula rot foglie 250 mg fagiolo fase olus vulgaris l baccello 250 mg frangola rammus frangola l corteccia 250 mg rodiola rodiola rosea l radice 167 mg parietaria parietaria officinali selle parte aerea 167 mg fumaria fumaria officinali selle sommità 84 mg tiglio tiglia plati filo scop fiori 84 mg fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato